Buongiorno a tutti, mi chiamo Elia Lupi, sono responsabile delle vendite globali di l'Indie, è la nostra quinta partecipazione ad ISEE. Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo voluto porre l'accento sulle soluzioni, quindi abbiamo creato quattro aree tematiche divise in altrettante soluzioni per orientare i clienti verso l'identificazione dei migliori prodotti per le loro necessità. Nella linea del motto che abbiamo creato per ISEE, abbiamo voluto esplicitare attraverso proprio la visualizzazione sulla parete tutte le tecnologie che utilizziamo per la distribuzione dei segnali, per l'estensione dei segnali e quindi abbiamo reso evidente quelle che sono le parti che normalmente sono nascoste a una soluzione audio-video. ISEE per noi non è soltanto occasione di mostrare nuovi prodotti, è anche un'occasione di incontrare i partner, di incontrare i nostri clienti, i partner che per noi sono molto importanti, stiamo rivedendo tutti i processi aziendali nell'ottica di garantire proprio a loro la migliore esperienza d'acquisto con l'Indie. Nonostante le premesse non fossero le migliori, stiamo vedendo un buon afflusso sia di clienti che di espositori. Tutto sommato, sia ieri come primo giorno che oggi come secondo giorno stiamo vedendo una buona affluenza, soprattutto stiamo vedendo clienti molto interessati e quindi discussioni focalizzate sul business che poi è quello che importa.